Penne a sfera a marchio Parker, ma prodotte su licenza ufficiale dalla Luxor, quindi sono a tutti gli effetti delle Parker e rispettano ovviamente determinati standard di qualità. Luxor è una importante azienda indiana attiva in molti settori e ha la licenza ufficiale per produrre e portare sul mercato indiano e nepalese alcuni articoli a marchio Parker. Taluni i modelli sono esclusivi, non reperibili su altri mercati. Ciò non di meno grazie a piattaforme di vendita online, ad esempio ebay, è possibile acquistarli anche qui da noi. Partiamo con la descrizione della Galaxy. Su ebay si prende per circa 20 euro, forse anche un po' meno, compresa spedizione dall'India. Purtroppo si tratta di una spedizione lenta, nel mio caso ho impiegato più di un mese per arrivare. Questa è la versione Gold, che è una penna sfera non roller ed è indicata nelle inserzioni anche con la dicitura Ballpoint o semplicemente BP. Marca Luxor. Vediamo qui la confezione. Questa ha una confezione interna in plastica con una sorta di forma di clessidra. All'interno si trovava ovviamente la penna. Qui vediamo che è realizzata, prodotta dal Luxor Writing Instruments in India e il prezzo è di 450 rupie. Praticamente il prezzo di vendita comprensiva di tutte le tasse in India questa penna viene venduta al massimo per 450 rupie. Sostanzialmente al cambio attuale dovrebbero essere qualcosa come 5 euro e mezzo più o meno. Pogliamo la confezione. Questa è la penna di questo colore dorato in acciaio satinato con la copertura dorata, la tipica classica clip a forma di freccia. Qui in testa nella parte superiore questo elemento plastico nero decorativo. Particolarità di questa penna è che si apre premendo l'intera parte superiore del fusto, quindi in questo modo. Una soluzione in qualche modo elegante perché permette di non avere un pulsante di scatto qui su in cima. All'interno il refill è il Parker Quink Flow, però anche in questo caso prodotto in India ed è la versione F. Parker Quink Flow Ball Pen Refill, 0,8 mm è il diametro della sfera indicata come F, anche qui in questo caso for sale only in India Nepal. Questa abbiamo visto che è la Galaxy con refill G2. Ovviamente uno è libero di potervi inserire qualunque refill G2 di qualsiasi marca. La filettatura abbiamo visto è in metallo, mentre all'interno c'è una sorta di controcappuccio in plastica. La molla interna nella parte inferiore, ecco qua, così si fissa. Andiamo a prendere un quadernino così giusto per scrivere. Questa è una Parker Galaxy con refill Quink Flow. È un F da 0,8 mm la sfera. Devo dire che è un ottimo refill. Scrive davvero bene, è scorrevolissimo e per certi versi addirittura mi risulta più comodo nella scorrevolezza rispetto a quelli originali che la Parker, originali europei che la Parker monta sulle sue penne, tipo la, questa è la classica Jotter. Anche questa è refill Quink Flow, però questa è una Jotter, quindi ha un tratto leggermente più grande perché è un M. E come scorrevolezza questa qua invece sembra che effettivamente vada meglio, tende a scrivere meglio. Questi refill indiani funzionano un pochettino meglio. Questo meccanismo di scatto con l'intero fusto superiore nella Parker e Europa lo ritroviamo anche nella Vector. Questa è una Vector in versione stainless steel. Anche questa scatta la punta, esce fuori la punta, fuoriesce premendo la parte superiore del fusto. Lo stesso meccanismo anche nella Parker Europa, però ovviamente su un altro modello di penna. Questa qua la Vector tende a essere un pochettino più moderna. Invece questa Galaxy è, diciamo, maggiormente elegante. Il peso è di 15 grammi, la lunghezza è di 13,3 centimetri. Magari lo segniamo. 15 grammi, 13,3 centimetri la lunghezza, così come riferimento. Adesso passiamo a descrivere l'altra penna, che è la Parker Classic. Questa qui. Questa è la confezione, questo è anche il problema degli invii dall'altra parte del mondo. Purtroppo mi è arrivata questa confezione interna con un leggero spacco, però vabbè, fare il reso, rimandare indietro non è il caso, anche perché la penna io la voglio usare, quindi sostanzialmente non ho bisogno della confezione in plastica. Classic, stainless steel, bullpen refillable, Luxor for sale only in India Nepal, anche in questo caso, anche in questo caso è prodotta dalla Luxor Writing Instruments in India. Il prezzo è sempre di 450 rupi e quindi sul mercato indiano circa 5 euro e mezzo, diciamo l'equivalente di 5 euro e mezzo. Io l'ho presa però su Amazon perché c'era una certa convenienza, veniva a poco più di 10 euro, attualmente ho visto che anche questa sta intorno ai 20 euro, si può comprare sia su Amazon che su eBay, magari qui sotto vado ad indicare il link per poterla acquistare su Amazon perché mi dà anche una certa sicurezza. La serie Classic nasce nel 1967 come ballpoint e matita. Conta diversi modelli, alcuni dei quali molto ricercati e realizzati impiegando metalli preziosi quali l'argento. Elemento distintivo è la clip a freccia completa con la forma di Y in alto. vedete questa freccia qui è completa, c'è la Y nella parte superiore, se noi andiamo a prendere questa è una Parker Jotter, dove la clip si è sempre a forma di freccia ma non ha quell'incavo AV, quell'incavo AV nella parte superiore. Inoltre la clip della Classic è più lunga e la penna è più sottile, anche se risulta un pochettino più lunga è più sottile. Ma è solo nel 1975 che viene lanciata la Parker Lady più sottile, appunto questa qui, e adatta secondo molte persone alle mani più esili delle donne. Poi nel 1982 prende il nome di Flighter GPT e finalmente nel 1983 Parker Classic. Al momento non sembra esserci una produzione qui in Europa per questo modello, il modello che è invece realizzato attualmente in India dalla consociata Luxor, riprendendo forma e caratteristiche della Parker Classic originale di alcuni decenni or sono. Anche questa monta il refill di tipo G2, quindi uno standard G2 si possono utilizzare i fill Parker o di qualunque altra marca, Parker che si può utilizzare. Quink Flow Ball Pen Refill, anche in questo caso 08F. La filettatura qui è metallo nella parte inferiore del fusto e qui all'interno, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che ci sia metallo metallo anche all'interno. Inseriamo il refill. Il meccanismo di scatto classico con il pulsante in alto. Questa è una Parker Classic. Questa è in versione, in colorazione, still gold, perché l'intero fusto è in color acciaio, realizzato in acciaio, ma anche in color acciaio, mentre il pulsante di scatto, la clip e questo piccolo anellino qui al centro sono dorati. È un Quink Flow India è un F da 0,8 mm. Andando a parlare di misure, abbiamo il peso è di 15 grammi e la lunghezza è di 13, no scusate, questo era di 13 centimetri, io ho sbagliato, il peso era di 17, 17,6 grammi e 13 centimetri. Questa qua è 15 grammi e 13,3 centimetri, quindi è leggermente più lunga della Galaxy e anche più lunga della Jotter. A me piace moltissimo, effettivamente questa è una penna davvero piacevole alla vista, ho detto personalmente, forse la reputo anche più bella, più elegante rispetto alla Jotter, questa è la Jotter stainless steel, questa invece è la Jotter con parte inferiore del fusto in plastica. Una penna funzionale, il meccanismo funziona bene, scrive benissimo, appare resistente. Arriviamo infine alle conclusioni di questo video, queste sono le due penne in oggetto, la Galaxy e la Classic. A chi possono interessare queste penne? Beh, considerata l'attuale difficoltà di riperimento, credo che abbiano maggiormente un interesse collezionistico, per chi ama le penne Parker e vuole possederle, magari in più modelli. Ma attenzione, queste sono comunque delle penne che funzionano bene, non sono da mettere in una bacheca, soltanto così per collezione, sono resistenti, fatti per durare, perché no, anche per essere usate regolarmente su base giornaliera ed effettivamente le sto usando con una certa regolarità, in particolare, come ho già detto, questa, la Parker Classic che io preferisco, mi sto trovando benissimo ed è una penna che porto in giro tranquillamente con me, alternandola magari a rotazione con altre penne, perché ne possedgo parecchie, quindi cerco un po' di usarle un po' tutte. Ed è una penna valida, l'ho detto, c'è questo problema del doverle ordinare un po' dall'altra parte del mondo, per noi, insomma, l'India è un paese distante e la spedizione impiega parecchio, però se poi si aprono nuovi canali e saranno rese disponibili ufficialmente anche da noi, credo che diventino davvero un buon affare, un buon acquisto. Io con questo video spero di aver fatto una cosa utile, vi ricordo che se volete rimanere aggiornati sull'uscita dei prossimi video potete iscrivervi al canale. A questo punto vi saluto e vi do un arrivederci al prossimo video. Ciao a tutti!